Una presenza territoriale forte, continuativa, ma soprattutto un servizio alle comunità. È anche un pezzo della forza della Lombardia rappresentata da queste attività che rendono un servizio alle loro comunità, ma anche nel cambio edificio nazionale si innovano. Siamo qui per dire grazie a queste attività riconosciute, attività storiche da Regione Lombardia, ma anche per offrire loro l'opportunità di avere a disposizione uno strumento che tutti gli anni fa Regione Lombardia, dedicato alle attività storiche che aiuta gli investimenti al rinnovo di queste attività nel mantenimento delle loro peculiarità tradizionali.